C'è però da dire, cosa che non viene resa nota dal comunicato del Comune, che la riunione tra il sindaco Rubrano, l'assessore Monte, il rettore Massino e il preside Cecchini ha visto quest'ultimo fare un resoconto del suo blog molto critico nei confronti dell'amministrazione Rubrano. È da tempo che il Dipartimento di Architettura lamenta la situazione attuale e chiede risposte certe riguardo soprattutto gli spazi che il Comune deve garantire, non i finanziamenti che per adesso sono arrivati grazie all'impegno dei consiglieri regionali e del Presidente della Commissione FOIS. La prossima settimana sarà convocato il Consiglio Comunale. Questi avvenire sono giorni decisivi per il futuro dell'amministrazione. Il Lepidie e anche Algerosa sono sul piede di guerra. Sentiamo la voce dell'opposizione riguardo la condizione del Governo cittadino di sinistra. Partiamo con il capogruppo dell'Udc, Alberto Bamonti. Quella che stiamo per affrontare è una delle settimane più importanti da quando si è insediata la nuova amministrazione comunale. La prossima settimana sarà convocato il Consiglio Comunale. Possibile che ci siano delle sorprese in aula da parte sia del centro-sinistra e anche una conferma della critica forte del centro-destra. Dunque intervistiamo i consiglieri comunali di opposizione. Oggi Alberto Bamonti. Un giudizio sull'operato dell'amministrazione Lubrano? Indubbiamente la realtà è sotto gli occhi di tutti in città. Stiamo assistendo a uno scenario quasi post-bellico. Basta vedere che la città è attanaiata appunto dalla morsa della povertà e della miseria. Aumentano i passi caldi alla Caritas. Aumentano le richieste di aiuto da parte delle famiglie. E questo è ancora più grave perché manca da parte dell'amministrazione una definizione di indirizzi politici da adoperare per affrontare appunto questo periodo di grave crisi economica. Le imprese in questo momento stanno soffrendo. Io vorrei ricordare semplicemente le promesse traditte che erano state fatte in campagna elettorale dai lavori a Battilimu, quando invece oggi Limu è fra i più alti della Sardegna, oppure anche i famosi voucher per i studenti e per i giovani. La situazione è allarmante. Io mi auguro che si abbia al più presto una presa di posizione da parte di chi si ritiene responsabile in questo momento al governo della città e che si affrontino nella maniera più veloce possibile i problemi appunto del nostro momento. Lei ha elencato una serie di punti tra cui tribunale, igiene urbana, università e anche programmazione. Sì, appunto, tra l'altro è vero che la città è attanaiata dalla crisi economica, ma noi stiamo anche arretrando sulle conquiste fatte con grandi sacrifici dai cittadini algheresi. Io vorrei ricordare il sacrificio e la lotta per mantenere il Tribunale di Alghero, il sacrificio che è costato a molti cittadini algheresi. Vorrei ricordare l'amministrazione precedente come si era operata per individuare la sede, soprattutto per cercare di fare in modo che non chiudesse. Oggi, anche perché ricordiamo che il Tribunale è una specie di indotto, perché ha delle ricadute economiche nella nostra città. Oggi, invece, vediamo in maniera molto disinteressata che il Tribunale chiude. Chi deve operarsi per combattere contro la chiusura, invece, non fa niente. Tanto che vediamo che rischiamo di perdere anche oggi i giudici di pace. Ho visto, appunto, l'intervento del Presidente del Consiglio Gabriele Esposito, che, appunto, più di così... La situazione è chiara. È importante scongiurare questo evento. Mi auguro che chi sta amministrando si renda conto e si adoperi al più pesto per scongiurare questa chiusura. Un ultimo passaggio sull'università, sull'architettura. Anche qui esistono dei problemi gravi. Sì, anche qui, appunto, parlando di grandi sacrifici fatti dai cittadini algheresi, appunto, per poter portare il polo universitario ad Alghero. Io l'ho visto nascere, anche se ero ragazzo. E poi vi ho partecipato di recente, gratuitamente, in quanto membro del Consorzio dei Servizi Universitari della Facoltà di Architettura, oggi Dipartimento. È uno scenario devastante. Non possiamo permettere che la Facoltà di Architettura vada a Sassari. Non lo possiamo permettere. Anzi, dobbiamo fare di tutto perché rimanga. Ma non solo per gli studenti. Ma se noi dobbiamo puntare sui giovani, l'università, che tra l'altro è una struttura di eccellenza, non solo in Sardegna e in Italia, ma a livello internazionale, oggi rischiamo di perderla. Non è accettabile. Non possiamo assistere con grande preoccupazione, senza allarmarci al fatto che nessuno, oggi, nessuno da parte dell'amministrazione si sta adoperando per scongiurare la chiusura del Dipartimento di Architettura. Già tre classi su nove stanno andando a Sassari. Non possiamo permettere tutto ciò. Al fatto che nessuno, oggi, nessuno da parte dell'amministrazione si sta adoperando per scongiurare...